Benvenuti all'Istituto Inaudi, sono Miriam Masakhei, insegnante di economia e tecnica turistica e da alcuni anni collaboratrice del dirigente. Vorrei presentare la nostra scuola iniziando dalla sua ubicazione. Ci troviamo nel centro storico della città, fanno da confine le mure medievale e il Tempio della Consolazione. È un punto strategico per i trasporti perché è da qui che arrivano e partono gli autobus che ogni giorno trasportano i nostri ragazzi. Nel nostro corso di studi sono presenti tre indirizzi, turismo, SIA, sistemi informativi aziendali, ex ragioneria, CAT, costruzione ambiente e territorio, ex geometri. Le lezioni si svolgono in cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con un rientro pomeridiano. Nella scuola è presente un bar che permette un servizio mensa ai ragazzi. Dal 2019 il corso SIA e CAT è supportato dalla curvatura sportiva. La nostra scuola è una scuola dinamica, aperta a quelli che sono i cambiamenti e le novità della scuola e questo si riflette in termini di attività didattica, di formazione degli studenti, di attività laboratoriali che vengono inserite e arricchiscono l'offerta formativa dell'istituto. A tal proposito la nostra scuola ha numerosi progetti Erasmus Plus, siamo Infopoint, quindi scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo. Ogni anno a maggio festeggiamo la festa dell'Europa, partecipano tutte le scuole del territorio, di ogni ordine e grado. Siamo Test Center e CDL. Al termine del percorso di studi i ragazzi acquisiscono una solida preparazione in termini di conoscenza e competenza, grazie anche alle numerose attività laboratoriali che possono spendere sia proseguendo gli studi, scegliendo qualsiasi corso universitario, sia affrontando il mondo del lavoro e su questo sono facilitati dal fatto che dal terzo anno, grazie al PCTO, ex alternanza scuola lavoro, i ragazzi sono inseriti per alcune ore nella realtà aziendale del nostro territorio, opportunità che a volte si trasformano in posti di lavoro.